C'è grande tensione nel mondo dei produttori di latte bergamaschi. L'allarme, lanciato dal presidente della col di reti aerobica Giancarlo Colombi, riguarda il prezzo stracciato che gli industriali pagano agli allevatori. Il costo di produzione di un litro di latte è infatti di circa 0,37 euro, mentre le industrie di trasformazione lo pagano solo 0,33. Colombi denuncia perciò il vero e proprio strozzinaggio a carico dei produttori e il rischio della chiusura di centinaia di stalle. Anche la distribuzione è la sua parte di colpa, non ci si spiega infatti perché il prezzo del latte alla stalla continua a diminuire, mentre nei negozi e sugli scaffali dei supermercati il prezzo non viene mai ribassato. Un divario intollerabile, secondo Colombi, che presto coinvolgerà più direttamente i consumatori perché il latte arriverà soprattutto dai paesi dell'est, dove lo si produce a molto meno e soprattutto dove non sono in vigore i rigorosi controlli che rendono sicuro il latte bergamasco ed italiano. Colombi ha anche invitato i consumatori a verificare la provenienza del latte con cui si producono i formaggi che si portano in tavola. In molti casi, ha detto, i prodotti presentati come bergamaschi e italiani sono a base di latte proveniente dall'estero. Un latte che costa poco, ma non garantisce qualità né sicurezza. Anche per il presidente di Coldiretti Lombardia, Nino Andena, la situazione è diventata insostenibile e si sta facendo drammatica. È perciò urgente, ha detto, che vengano allargate anche all'agricoltura le disposizioni del recente decreto competitività predisposto dal governo per sostenere i settori economici in crisi.